È la provincia dell'Aquila la regina per il 2015 degli istantiamenti del Fondo Fussa, il fondo unico dello spettacolo del Ministero dei Beni Culturali, con 2.847.000 euro. Per gli enti culturali delle altre province, pochi spiccioli o quasi. Si va dai 32.900 euro della provincia di Chieti, ai 117.000 di quella piscarese, ai 92.900 della provincia di Teramo. Tagliata fuori la Società della Musica, Primo Riccitelli, mentre si salvano l'Associazione Benedetto Marcello e l'Ax Abruzzo Circuito Spettacolo, tutte del Teramano. Mentre a Chiedi affare le spese dei tagli è il teatro di tradizione del Marrucino. Un duro colpo in tempi di vacche già magrissime per il mondo della cultura abruzzese, sul cui futuro è intervenuto l'ex direttore artistico del TSA Federico Fiorenza. La rivoluzione più fondamentale per l'Abruzzo è la perdita di finanziamenti storici, per esempio il finanziamento e il riconoscimento del Marrucino di Chiedi come teatro di tradizione non c'è più, il riconoscimento della Riccitelli di Teramo non c'è più, come il passato presente dell'Aquila non è stato finanziato. Chi ha perso oggi il finanziamento e quindi il riconoscimento come FUS non lo porrà riavere per tre anni. Intanto quella di domani sarà una giornata decisiva per l'istituzione sinfonica abruzzese a un passo dal barro e dalla chiusura dopo il taglio dei fondi regionali ed il mancato accordo sulla variazione di bilancio da 800 mila euro che consentirebbe la sopravvivenza dell'ente culturale dove lavorano circa 50 persone tra tecnici, personale amministrativo ed orchestrali. Io non parlerei di salvataggio, si parla sempre di salvataggio, abbiamo partecipato tutti alla difesa dell'istituzione sinfonica abruzzese che è un'eccellenza della regione, è un'eccellenza nazionale. Parlerei più di conferma di una linea di indirizzo, che la linea di indirizzo è quella di dare sostegno e direi proprio riconoscimento a quella che è l'attività di una grande orchestra.